Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nostro nuovo incontro, nostra nuova intervista organizzata da AIK, che come sapete è l'Associazione Internazionale dei Interpreti di Conferenza. La nostra regione, la regione Italia, sta organizzando questo ciclo di interviste con i principali esponenti dell'industria mais e quest'oggi diamo il benvenuto a Salvatore Sagone. Piacere, ciao Salvatore. Ciao Raffaele, sono molto lieto di essere qui con te questo pomeriggio. Grazie davvero per averci voluto dedicare il tuo tempo. Salvatore, lo ricordo, è presidente di ADC Group ed è qui anche in veste di rappresentante del club degli eventi. Cominciamo proprio da questo, Salvatore, per favore in due parole spiegaci che cosa sono queste due grandi realtà e in che cosa si differenziano dalle altre. Bene, grazie Raffaele per questa opportunità di nuovo. Allora, ADC Group è una società editoriale che è nata nel 2002, da me fondata, anzi co-fondata, e che quindi sta per compiere l'anno prossimo vent'anni di vita. Sono abbastanza emozionato per questo traguardo importante. Che cos'è ADC Group? A me piace definirla come una piattaforma d'incontro tra domande e offerte. Parliamo di editoria specializzata dove la mission è proprio questa, cioè di far incontrare chi propone servizi con chi li deve acquistare. Quindi fondamentalmente le aziende e i partner di comunicazione, perché la comunicazione è il nostro specifico ambito d'azione. Il Club degli Eventi cos'è? È un'idea che mi è venuta in mente quattro anni fa, quando vedevo che nel panorama associativo non esisteva un punto di riferimento, di incontro per le agenzie specializzate nell'ideazione, creazione e produzione di eventi. Avendo io lanciato appunto nel 2004 tutto un sistema editoriale dedicato, ossia il sito Eventi Express, la rivista Eventi, il primo mensile dedicato, e avendo poi lanciato sempre in quell'anno la prima edizione del BEA, del Best Event Awards, che due anni dopo sarebbe diventato anche European Best Event Awards, e da quattro anni ormai è diventato BEA World. Quindi nell'ecosistema editoriale che avevo ideato mancava un tassello fondamentale, che è quello dell'incontro, del networking. Ecco, il Club degli Eventi e della Live Communication, come ormai ci piace più definire questa disciplina di comunicazione, nasce con questo proposito, quello di essere un punto d'incontro dove le strutture, le agenzie più o meno importanti, ma comunque legate dal fil rouge della qualità, e quindi anche della reputazione sul mercato, si incontrano, si scambiano idee, e danno vita anche di iniziative comuni. Devo dire che dopo quattro anni sono molto contento, perché registriamo sempre un numero crescente di partecipanti, e poi avremo altre novità che magari nel corso dell'intervista le possiamo annunciare. Assolutamente, mi rilascio subito a una cosa che hai appena finito di dire, cioè parlavi della dimensione dei membri delle aziende che fanno parte del Club degli Eventi, dicendo anche appunto che accogliete aziende di piccole dimensioni. Bene, la mia domanda specifica proprio su questo. Penso ai nuovi arrivati sul mercato, un momento non facile per lanciarsi in questo settore, che tra l'altro è un settore così importante per l'economia, sappiamo tutti come rappresenti oltre 36 miliardi del PIL italiano, eppure è un settore che è stato probabilmente fra i più colpiti dalla recente crisi. Affacciarsi in questo momento a un'azienda di piccole dimensioni deve essere un'opera titanica. Secondo te che caratteristiche deve avere una nuova, giovane azienda, magari lanciata da giovani, che competenze specifiche devono sapere e poter sviluppare per distinguersi dagli altri? Beh, questa è una domanda molto interessante perché mi permette anche di inquadrare il fenomeno nello scenario complessivo. Come hai detto giustamente tu, la pandemia ha penalizzato in maniera fortissima il nostro comparto, forse è il comparto che ha subito più danni. Siamo stati i primi a chiudere, saremmo probabilmente gli ultimi a riaprire. Però in questi anni, voglio dire, ci sono stati anche dei fenomeni interessanti, cioè la digitalizzazione non è iniziata con la pandemia, anche nel mondo degli eventi e del mais, è iniziata già molto prima, per cui quando è arrivata non è che abbia trovato assolutamente digiuni e impreparati i protagonisti, i quali hanno sicuramente dovuto accelerare come tutte le realtà imprenditoriali del paese, il loro processo di apprendimento e di trasformazione digitale del business e devo dire lo hanno fatto molto molto bene. Cioè dal 10 marzo del 2020 si entrava in lockdown, ma poche settimane dopo già si tenevano i primi eventi digitali. che poi hanno conosciuto in evoluzione, è andata avanti per tentativi più o meno riusciti, ma che insomma oggi hanno portato alla creazione di una capacità di competenze che sicuramente rimarranno anche nel futuro. In questo le aziende, anche più piccole, minori, che fanno parte anche del club, vengono accettate perché hanno dimostrato sul campo attraverso gli eventi che hanno fatto o la partecipazione anche al BEA stesso, che è una sorta di certificato di qualità. Se vince il BEA vuol dire... Che ci sai fare. Che ci sai fare, anche perché la giuria del BEA è composta da 40 aziende, quindi sono le aziende committenti che danno i premi alle agenzie. Quindi vince il BEA costituisce già un merito e un credito nei confronti della commissione all'interno del club che è chiamata a valutare. Per cui per le start-up e i giovani c'è assolutamente spazio, anzi vorremmo averne anche di più e stanno benissimo anche accanto ai colossi dell'industria con i quali si tiene un confronto su base mensile, o sulle attività che facciamo, che secondo me è molto proficuo. Quello che possono fare le piccole realtà. Le piccole realtà in questo senso, se vogliamo, possono avere anche addirittura un vantaggio rispetto alle grandi, perché i grandi gruppi, le grandi sigle, operano sulla base di un business model che era precedente alla pandemia, dove gli eventi fisici in presenza richiedevano competenze di natura logistica, organizzativa, produttive enorme. Speriamo sicuramente di tornare a quei tempi. però dobbiamo essere anche consapevoli che il futuro non sarà quello che era il passato di una volta. Già per definizione il futuro è qualcosa di imprevedibile e diverso, però i segnali di come sarà li abbiamo già. E sappiamo bene che gli eventi, anche in futuro, anche quando la pandemia sarà passata, avranno una componente digitale fortissima, ma che cambieranno anche da un punto di vista di contenuti. Per cui saranno gli eventi, da quello che vedo, dall'osservatorio che ho, gli eventi saranno sempre più paragonabili a delle trasmissioni quasi televisive rispetto al tradizionale modo di fare eventi. Perché dico questo? Perché ci sarà sicuramente il ritorno in presenza, ma grazie a quello che abbiamo imparato adesso ci sarà la possibilità di amplificare, di coinvolgere pubblici molto più ampi, lontani o difficilmente coinvolgibili fisicamente, che costituisce in realtà un vantaggio competitivo rispetto al passato. Quindi anche l'ideazione dei contenuti dovrà venire più in forma di, appunto, di una televisiva, cioè le agenzie e i clienti dovranno ragionare come se fossero dei broadcaster, come un emittente, che trasmette dei contenuti che coinvolge delle audience molto più ampie. E in questo le agenzie, le piccole agenzie, possono dare un contributo grazie alla loro versatilità, flessibilità e più, e maggiore facilità di riconfigurare il proprio business model in termini soprattutto di ideativi e creativi, no? E la stessa cosa stanno facendo, peraltro, anche le grandi agenzie. Sì, è però partendo da un business model che è passato. Quindi il processo di trasformazione è un pochino più faticoso. Lo stanno facendo, e in alcuni casi è anche molto bene, però è faticoso. Questo, quindi, apre, magari prevengo un'altra domanda, sulle competenze che oggi sono necessarie sul mercato. Assolutamente. Volevo proprio soffermarmi su questa cosa. E tra l'altro sentirti parlare di contenuti è musica per le mie orecchie, perché è quello a cui noi, come categoria interpreti, abbiamo sempre aspirato, e cioè che gli eventi fossero sempre più incentrati sui contenuti, e soprattutto su un'apertura alla diversità. Quindi per noi contenuti significa far arrivare quei contenuti nel modo più appropriato a tutti i partecipanti. Molto spesso questo avviene consentendo a tutti di esprimersi nella propria lingua e da qui l'interesse da parte nostra nei confronti dei contenuti. Quindi fare in modo che l'evento ruoti intorno allo scambio di contenuti, di idee, che non invece esclusivamente sull'esperienza dell'essere lì in quel momento. Esatto. E per voi appunto, per quello che dicevo prima, per questa possibilità di amplificare il messaggio andando oltre i confini nazionali, quindi intanto anche internazionali si aprono delle opportunità molto interessanti. Senti, voglio proprio riallacciarmi a questo per farti un'altra domanda. Noi siamo dei fornitori di servizi, mi sembra di capire, per le aziende, ad esempio, che fanno parte del club degli eventi e voglio assumere un atteggiamento un po' critico verso noi stessi. Noi fornitori di servizi linguistici in questo caso, cosa dovremmo fare? Come dovremmo porci rispetto al mercato, rispetto a voi, possibili committenti, per essere più appetibili ma soprattutto per essere più collaborativi? Collaborazione almeno, questa è la parola che mi porto a casa dopo tutti questi mesi di pandemia senza collaborazione non si va da nessuna parte. Ma io voglio fare un passo in più, voglio diventare ancora più collaborativa. Cosa devo fare perché appunto questo messaggio arrivi a tutti voi? Ma dunque, tu hai detto bene, la collaborazione è la parola chiave che ci porteremo in futuro, anche alla luce del fatto che dobbiamo tutti prendere ato che questa pandemia sia creato delle importanti opportunità di crescita, di evoluzione, però anche ha implicato delle sofferenze da un punto di vista economico, finanziario, da parte delle strutture. Quindi la collaborazione dovrebbe fondarsi sia sull'aspetto propositivo di ricerca di nuove forme di relazione, anche sulla base di quanto dicevamo prima, anche sulla base delle nuove modalità per fare eventi, perché come dicevo prima, se un evento diventa internazionale grazie alle tecnologie, alla digitalizzazione, eccetera, è chiaro che occorre pensare a monte il coinvolgimento per esempio di realtà come la vostra. Ecco quindi che nella nuova visione degli eventi il vostro ruolo diventa fondamentale ed è giusto che venga coinvolto a monte, perché voi stessi potete dare anche dei contributi di idee. Assolutamente, quindi tu stai dicendo più che fornitori dobbiamo imparare a diventare partner, a farci, essere propositivi. Esatto, ora non vorrei fare troppo autopromozione, però una delle novità di quest'anno che abbiamo annunciato come club è quello di aprire un capitolo proprio dedicato ai partner. L'abbiamo voluto chiamare capitolo partner non fornitori proprio per questo aspetto. Adesso sarai sommerso da richieste di interno. Beh no, stiamo ricevendo un bel feedback proprio perché la filosofia del club ma quello che dovrebbe essere la filosofia che dovrebbe ispirare un po' il business nell'epoca post-pandemica è proprio quella di cercare un dialogo insieme di trovare anche delle soluzioni e di scrivere nuove regole. Il club si sta impegnando per esempio per scrivere un nuovo patto tra agenzie e clienti per cercare di dare al business un connotato più sostenibile da un punto di vista economico-finanziano ma anche da un punto di vista etico di relazioni quindi anche il tema delle gare dei rapporti tra aziende e agenzie insomma daremo vita a una bella campagna di comunicazione in questo senso quindi per rispondere alla tua domanda certo la collaborazione è importante massima attenzione ricerca di dialogo e cercare di far comprendere l'importanza per determinati partner di essere parte della ideazione del contenuto già a monte. molto interessante questa cosa e ti prendo in parola ti citerò tutte le volte che noi interpreti veniamo pensati proprio come l'ultimo tassello della catena di costruzione di un evento ti ringrazio per aver fatto questa piccola riflessione volevo chiederti una domanda un po' più ovvia prima di parlare invece di ADC ma prima ti chiederei l'ho capito che cosa state facendo per prepararvi alla ripartenza mi sembra che non siete stati con le mani in mano o avete tanti progetti in corso quindi mi sembra di capire che questo sia il vostro approccio pensare alla ripartenza preparandosi essendo proprio esatto e abbiamo voluto farlo proprio partendo dalla riscrittura delle regole del gioco per quanto ci sarà possibile intendiamo come club suggerire alle aziende delle modalità di comportamento quanto più corrette e giuste anche da un punto di vista etico possibile quindi ti ho parlato di gare che sono come dire il nervo scoperto del sistema perché si è raggiunto insomma anche livelli insostenibili di gestione di possibilità di affrontare in maniera serena perché si assiste a gare indette che coinvolgono decine di strutture non si sa con brief poco chiari con budget anche troppo bene definiti spesso appunto vengono richiesti delle lavorazioni molto complesse o rilavorazioni nel tutto senza per esempio un compenso per quanto riguarda il lavoro che le agenzie fanno in gara quello che noi stiamo cercando di fare è chiedere alle aziende di limitare il numero delle agenzie coinvolte in gara dare un brief chiaro possibilmente coinvolgere partner o agenzie più o meno omogene e dare una corretta remunerazione anche alla gara stessa anche se simbolica ma sembra corretto che venga fatto ci sembra certo immagino che sia un dispendio di energie di risorse di tempo e non voglio svelare altri dettagli perché la campagna è ancora però insomma questo è un po' il senso quello di dare valore e riconoscere lo sforzo che le agenzie fanno per i clienti benissimo parliamo di ADC non abbiamo ancora toccato molto l'argomento qual è il ruolo dell'editoria di settore in questo momento che cosa cambierà se cambierà qualcosa certo ti ringrazio anche per questa domanda che mi dà la possibilità di parlare un po' del futuro allora ADC Group come dicevo prima fondamentalmente intende essere una piattaforma di incontro tra domande e offerte questa è la nostra mission in pochissime parole e lo sarà a maggior ragione anche in futuro è una mission che noi cerchiamo di come di perseguire attraverso tutte le cose che facciamo i premi per esempio come dicevo prima diamo vita alla Best Event Awards nella versione italiana e al BEA Award nella versione internazionale premi che hanno avuto un grande successo se pensiamo che nel 2019 l'ultimo anno in cui è stato possibile fare gli eventi in presenza qui a Milano per la Live Communication Week quando ancora c'erano le settimane dedicate non me ne ricordo più avevo lanciato la settimana dedicata alla Live Communication sono venute persone da 42 paesi dal mondo insomma quindi è stato un bel riconoscere perché veniva inteso appunto il valore di queste esperienze perché chi veniva qui alla BEA aveva la possibilità di incontrare i propri colleghi ma anche le aziende a cui si rivolgono per fare business quindi in futuro secondo me sempre più questo tema della relazione cliente e partner agenzia o chiunque se sia sarà accentuato e quindi quello che noi stiamo pensando di fare è seguire questa evoluzione utilizzando i mezzi gli ambienti digitali e creando anche nuove opportunità nuovi formati di coinvolgimento anche qui per quest'anno avremo diverse novità che al momento non svegliamo non ancora però la mission è quella lì è una piattaforma di incontro per le domande offerte e a maggior ragione dovrà esserlo anche in futuro senti purtroppo non abbiamo ancora tantissimo tempo a disposizione e vado a concludere citando abbiamo più volte nominato il digitale in questa nostra intervista si è parlato di evoluzione digitale beh lo abbiamo fatto anche noi anche noi interpreti la nostra associazione AIC Italia ha lanciato questa nuova app che si chiama AIC Voices che consente ai partecipanti di un evento sia in presenza sia un evento ibrido sia un evento remoto di ascoltare la traduzione simultanea direttamente dal proprio telefonino o dal proprio tablet questo è stato il nostro modo di prepararci non soltanto di affrontare l'emergenza della pandemia ma soprattutto di prepararci al futuro un futuro che come tutti sappiamo sarà sempre di più ibrido è appunto la possibilità di dare a tutti la possibilità di ascoltare la traduzione simultanea sia se si assista ad un evento in presenza sia che lo si segua da migliaia e migliaia di chilometri di distanza ci sembra una bella opportunità mi chiedo se hai avuto modo di vederla di guardare la brochure di visitare il nostro sito che cosa pensi ti sembra una soluzione interessante beh guarda assolutamente sì perché questa è in linea con il processo di digitalizzazione che il nostro paese tutta la industria sta vivendo e Dio sa quanto ne abbiamo bisogno soprattutto in Italia che purtroppo è fanalino di coda nella digitalizzazione la pandemia se vogliamo trovare un aspetto positivo ci ha aiutato a colmare un po' questo gap però rimane ed è sicuramente la chiave di volta anche per il futuro cioè quella possibilità di avere a disposizione strumenti che possano mettere in contatto in collegamento persone da remoto a qualunque paese si trovino senza rinunciare però contemporaneamente agli eventi in presenza assolutamente tutti i valori che questo coin portano quindi assolutamente sì e come dicevi tu il futuro è sicuramente ibrido per cui probabilmente anche voi dovrete fare eventi dove parte del vostro personale sarà in presenza e parte invece sarà magari collegato da remoto e i vostri utenti saranno parte in presenza e parte collegato assolutamente questa è la bella sfida che ci attende e poi vorrei finire di rispondere alla domanda sulle nuove personalità perché vorrei anche poter dire che il club degli eventi insieme a noi Ulm ha lanciato l'anno scorso veramente a fine 2019 un master in comunicazione e management degli eventi siamo ormai alla terza edizione e questo per anche diciamo aggiungere l'ultimo tassello relativo alla formazione e quello che stiamo cercando di fare è individuare le nuove professionalità di cui questo mondo ha bisogno cioè il futuro abbiamo detto è ibrido e gli eventi negli eventi il contenuto sarà sempre centrale questo ridefinirà un po' anche la modalità di comunicazione quindi gli eventi saranno sempre più paragonabili a degli eventi mediatici quindi il valore della comunicazione aumenterà e pertanto occorreranno professionalità un po' diverse rispetto al passato per cui autori televisivi di fiction competenze nell'ambito della comunicazione digitale perché tutto sarà collegato stanno riconfigurando un po' il settore le agenzie di eventi si stanno trasformando a tutti gli effetti in agenzie di comunicazione e di intrattenimento un'evoluzione davvero interessante un'evoluzione molto molto potente mi sembra di capire che avremo bisogno di rincontrarci quando molte delle novità che ci hai prospettato saranno diventate realtà e mi auguro innanzitutto ti auguro che il prossimo BEA possa essere un BEA di presenza con ancora più ospiti stranieri il BEA Italia lo sarà sicuramente sul BEA World temo che ancora quest'anno dovremo fare usare una soluzione un po' in grado quali saranno le date quando saranno queste due grandi occasioni sia sia il BEA Italia sia il BEA World beh l'appuntamento col BEA Italia che prevederà almeno la cerimonia di premiazione in presenza quindi ci torneremo a incontrarci è prevista per il 27 28 e il 29 di ottobre mentre per il BEA World l'appuntamento un mese dopo e in particolare il 22 23 e 24 di novembre benissimo speriamo perlomeno si possa svolgere in presenza la premiazione italiana tu li auguriamo di cuore grazie mille per il tempo che ci hai dedicato oggi Salvatore e ci risentiamo presto assolutamente sì grazie Raffaele sei stata veramente gentile ti ringrazio per questa chiacchierata un piacere grazie a te grazie a te ciao Salvatore grazie a te